Inizia dal 2.5 Firmware, EagleCore ti permette di fare l'astrofotografia anche con le nuove camere mirrorless, come la Nikon Z6 o Z7 o la Canon EOS R. Proviamo tutti gli avvantaggi! Sony era il primo a innovare nelle camere mirrorless, ma, due a alcune limitazioni, non era possibile l'utilizzo completamente per l'astrofotografia con telescopi. Funzionale Canon e Nikon hanno presentato nuove camere mirrorless che sono perfette per l'astrofotografia. Per esempio, compariamo la camera mirrorless Nikon Z7 con sensore full-frame con la Nikon D610 DSLR con sensore full-frame. Prima di tutto, il mirrorless è più leggero che il DSLR e, perciò, crea meno problemi per il tuo focuse del telescopio. Le camere mirrorless sono molto lenti che le classiche DSLR, infatti, non hanno il mirror. In questo modo, il sensore è molto più vicino al bayonet in fronte, in questo caso solo 16 mm, comparito con il 46 mm di Nikon DSLR. Anche il bayonet è diverso. Nikon e Canon digital mirrorless sono equipati con un bayonet wider, e questo aiuta a ridurre la vignetta. Il focuse più corto della camera mirrorless ha molto aiutare la camera con i telescopi e i corretori. I flattentori o i reducors di focali sono necessari di avere il sensore di camera a una distanza precisata dal corretore, normalmente 55 mm. Questa distanza è fatta da aggiungere i due ringi al DSLR, ma non puoi aggiungere altri accessori in-between, come si muovere il sensore dal corretore. Inoltre, il focuse più corto della camera mirrorless permette di inserire diversi accessori in-between, camera e corretore, per esempio off-axis guider, o filter sliders, come D-Badr UFC. Con gli adaptori speciali possiamo collegare D-Badr UFC a Nikon Z7 o Z6, e D-Badr ha adattori anche per il Canon EOS R, e poi connessione con il reducer o flattentore, ma mantenendo la distanza corretta back-focus. In questo modo possiamo inserire un filtro di due inci in fronte del sensore della camera e è molto facile cambiarlo senza rilassare la camera dal focuser. E qui abbiamo il perfetto e completo sistema per l'astrofotografia con camera mirrorless e telescopi, con D-Badr UFC filter slider, Sesto Senso focusing system, all power and controlled remotely with Eagle Core.